Vi auguro una buona giornata. Il messaggio di oggi è Spirito del Corvo Bianco, confida nella magia. Nulla accade per caso nell'universo, perché la complessa rete della co-creazione intreccia tutti gli eventi e questo avviene sin dalla notte dei tempi. Le coincidenze hanno un significato e lo Spirito del Corvo Bianco appare per lamentarti di prestare attenzione a queste sincronicità affinché tu possa riconoscere gli schemi. Persino i 20 hanno un loro schema, partecipando alla magia del progetto che lo Spirito ha per tutti. Allineati con il bene e con le intenzioni più alte e arriverai a capire che a guidarti è il Corvo Bianco, un alleato e un messaggero dello Spirito. Allineati con la luce e inizierai a riconoscere che tutto coopera armoniosamente in base a modalità che l'occhio non sempre riesce a vedere e la mente non sempre a comprendere. L'universo sta lavorando a tuo favore in questo momento attirandoti verso la luce e donandoti la magia e i miracoli che sono tuoi di diritto. È il momento di avere fiducia nella magia del mondo che è ovunque e in tutte le cose. Presta attenzione a come le cose si riuniscono come per magia e vedrai la mano del grande Spirito che dispone tutto a suo favore. Questo è il messaggio per augurarvi la buona giornata.